no perché non voglio sentire parlare di caldo perché ne abbiamo già parlato abbastanza abbiamo parlato di due soli ah è vero lui l'ha implicitamente ok qua mi sa però è meglio che vai te che sei il master come primo giro intanto vi devo leggere come la richiesta dell'autore un piccolo pezzo di poche righe che dice tutti noi seduti a questo tavolo anche se virtualmente abbiamo uguale potere creativo a volte avremo ruoli e autorità diversi ma siamo tutti ugualmente partecipi e autori può sembrare che io stia guidando il gioco perché spiegherò molte delle regole potrei interrompere o intromettermi per chiarire come si gioca ma non ho più autorità di chiunque altro quando si tratta del gioco effettivo non c'è abitro o un GM e quindi diciamo questo è un modo molto politically correct per dire leggetevi il cazzo di manuale esatto quindi a questo punto diciamo iniziamo con il primo giro in questo primo giro tutti quanti a partire da carisma possono introdurre o un periodo quindi che andrà in orizzontale in mezzo a quello iniziale e finale oppure un evento all'interno di un periodo già esistente e qua un evento è qualcosa di relativamente più limitato sì durante il finale che la casata Stamfor regna incontrastata potrebbe esserci l'evento del l'ultimo assedio in cui e sarà l'ultima battaglia prima dell'unificazione del mondo esempio abbraccio totale eccomi ok ok quindi tu diciamo qui meccanicamente puoi mettere o un periodo in mezzo all'inizio e alla fine oppure un evento sotto il periodo iniziale o il periodo finale ok e per adesso tu puoi inserire quello che ti pare perché in questo primo giro non viene non viene puntato nessun focus che andremo poi adesso con calma a definire io direi evento sotto il primo periodo di luce ok viene scoperto che la magia è relativamente sicura da utilizzare dopo alcuni test si scopre che il minerale non porta controindicazioni chiamiamola così ti piace così? viene scoperto che c'è modo di usare la magia in modo sicuro ottimo questo immagino che porti tutti a usarla spesso quindi fondando proprio l'ambientazione sull'uso della stessa il che si rispecchierebbe con il fatto che chi ha più magia ha più potere ma la magia viene 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 utilizzerà solamente tramite il minerale o non lo vuoi definire questo aspetto? non lo voglio definire voglio lasciare aperto il fatto che magari in seguito si trovi un modo per magari anche meno sicuro però ecco appunto fondiamo che questa cosa permette che il minerale permetta di utilizzare la magia sicuramente in modo sicuro quindi va bene così la descrizione o devo si va bene così per se qualcun altro vuole mi è scoperto c'è modo di usare la magia in modo sicuro solo tramite il minerale si se vogliamo specificarlo però però deve decidere carisma diciamo che non dovremmo cioè allora per il momento io la lascerei così magari se qualcun altro vuole aggiungere che si scopre anche il modo di utilizzare lo può fare dopo senza il minerale esatto però per il momento io la lascerei così ok per te è di luce o di ombra? di luce questo assolutamente ok io visto che vabbè faccio finta anche io di partecipare no scherzo io metterei un evento all'interno della fine la casata stammer regna in contrastata l'ultima resistenza di elfi viene sconfitta portandoli all'estinzione brutal brutal si bella bella il mastercai dopo mi picchia e la distruzione degli elfi è ovviamente un evento di luce e mi hai letto nel pensiero poi andremo a capire perché eccoci qua io li sopporto come voi i geoi e gli elfi come oppure non ti sentiamo più si se non ci sono ah ok quindi peraltro hai invertito il giro quindi in realtà adesso tocca a metallo no carisma mitilico muzius il cai e metallo sto seguendo questo ah stai seguendo ok scusa si no per semplicità perché poi sino dopo quando faremo allora vado al muzzo yes allora ricapitoliamo stiamo creando un evento o un periodo o un periodo in questa prima fase o un periodo in questa prima fase dove tu sei libero di farlo su un argomento che ti piace che ti interessa senza dover diciamo seguire il focus che invece comanda normalmente tutto un giro ah ok ok ma quindi praticamente noi questo gioco lo stiamo playtestando no il gioco è questo no no il gioco è proprio questo ah ok ok cioè nel primo cioè nel primo giro si dà la possibilità ai giocatori anche per capire un po' le meccaniche di includere un periodo o un evento senza dover seguire un focus specifico sempre nell'ambito della storia che si sta definendo e cominciare insomma a prendere un po' mano con con le regole senza doverle poi applicare tutte insieme poi a partire dal secondo giro cominciamo anche a introdurre quello che sono le scene ok va bene allora vediamo cosa potrei aggiungere ci penso vai vai tranquillo mi incuriosisce aggiungere un periodo anziché un evento in mezzo ai due tra inizio e fine ok viene istituito un tribunale per regolamentare l'uso della magia e luce sì me lo immagino oddio può voler dire tutto e niente aspetta un attimo perché viene istituito un tribunale per il controllo della magia non è tanto un periodo quanto un evento ok no no aspetta non so d'accordissimo vi faccio un esempio secondo me è più un evento un periodo può essere anche una guerra vabbè qui potrebbe anche essere sì ma allora è il il dominio dell'inquisizione magica il periodo che comincia con l'evento viene stabilito un tribunale lo accetto più come l'ha detto il CAE perché sì ci si evolve per arrivare a questa magia va regolamentata in qualche modo quindi il dominio dell'uso della magia come periodo però sempre ok quindi lo riformuliamo come metterei dominio dell'uso della magia stare anche un pelino sul vago dominio per me non è non è molto chiaro però forse diciamo è la mia il mio limite allora quindi questo qui però chiama l'era della regolamentazione della magia no no lasciamolo così ma stavo dando un commento mio ma non era non era un giudizio sulla frase io ci tengo proprio a lasciare le cose in maniera molto personale perché poi vediamo che cosa tirano fuori perché altrimenti poi si rischia sempre di omologare un po' tutti i pensieri se uno poi a me guarda dominio va bene perché potrebbe voler dire abbiamo cominciato a usare la magia in maniera rudimentale siamo arrivati a usarla bene ok dobbiamo mettere dei paletti siamo arrivati qui per te è di luce eh oddio non mi riesco a decidere questo dà il tono cioè che tono ci potrebbe avere è quello è quello è quello è quello me lo gioco di luce perfetto me lo gioco di luce il Kai cosa farei tuoi eh qua quattro luci e un'ombra questa cosa deve assolutamente cambiare allora a me piace l'idea del muts ma vivendo nel mondo reale so come vanno a finire quindi inserisco un periodo tra il dominio e l'uso della magia e il finale le guerre del possesso in cui vari gruppi di interesse vedremo poi se sono stati nazionali protonazioni o qualcosa si scontrano per il controllo dei giacimenti di come l'abbiamo chiamata fluminite quindi le che possiamo chiamare le guerre del possesso dei giacimenti di fluminite vuoi chiamarla anche il periodo dell'esportazione della democrazia se ti piace di più rende di più l'idea ed è assolutamente un periodo oscuro se riapriamo un forno in ogni vostra città si ok oh ma tu hai del petrolio aspetta hai proprio bisogno di democrazia non ce l'hai più allora questo lo diamo come quindi dark dark ok passa la palla a metallo che ci devasta con allora mi piace l'idea della guerra del possesso quindi io ci metto un gruppo che va previsto l'uso sbagliato della magia e visto che sono un fan di Shannara direi che metto sotto il dominio dell'uso della magia l'evento fondazione del circolo dei saggi no l'altro no scusate ah nel dominio sotto dominio scusate scusate del circolo dei saggi volevo dire che è indipendente da tutti i governi una cosa ah ho capito indipendente dei saggi sono appena nati i salvi anziani di Sion o gli illuminati o i rettiliani a seconda di quale religione tu appartenga beh il circolo dei saggi chi è saggio solitamente prevede il caso peggiore così ci fa schifo grazie del circolo dei saggi lo vogliamo scrivere in un'altra maniera o va bene no va bene per me va bene se vuoi specificare il circolo dei saggi potrebbe essere formato tutte le razze dei migliori di tutte le razze per esempio tutti i più grandi stregoni di ogni razza si uniscono ah bene i più grandi stregoni di ogni razza creano il circolo dei saggi visto che si parla di allora vogliamo usare stregoni o tipo usufruitori di magia o maghi usare canisti mamma mia i più grandi arcanisti del mondo razza visto che si parla di razze le razze fondano il circolo dei saggi si e qui la domanda si fa spontanea è un di luce o di ombra allora è un tono luce ombra giusto potrebbe essere anche nero perché tipo sanno già chi andrà male sono cinici un po' nella visione dell'uso della magia nonostante siano all'apice della magia ok ok allora diciamo che adesso entrando nel nel ciclo diciamo più diciamo il primo ciclo corretto diciamo quello più più inclusivo di tutte le regole dobbiamo definire chi è la lente che in questo caso lo facciamo partire da carisma anche se il manuale consiglia di farlo fare a me ma lasciamo diciamo il giro così com'è che sicuramente ce la facciamo quindi carisma sarà la lente come lente deve decidere di deve decidere un focus da questo punto in poi noi saremmo chiamati per turno a scegliere un periodo un evento una scena ora vi spiegherò anche le scene che cosa sono però queste tre categorie quindi periodi eventi e scene dovranno essere tutte quante relative al focus deciso dalla lente e la lente è un personaggio è un giocatore speciale perché perché può crearne due quindi può creare un periodo un evento scusa creare due ma non essere nidificati quindi può creare un periodo o un evento oppure un periodo un evento oppure un evento una scena e quindi c'ha una c'ha un po' più di potere perché diciamo che è il suo turno diciamo decisionale la lente è il master di questo round si ci piace quindi carisma ok domanda scusate è solo verticale o cioè tipo può creare un periodo e un evento oppure può creare due periodi no devono essere non può creare due cose uguale perché devono essere nidificate quindi può creare un periodo un evento un evento una scena poi diciamo ok diamo il focus poi vi spiego anche le scene così carisma può scegliere anche diciamo il focus è relativo a questo turno e il focus è l'argomento di cui parleremo a questo turno quindi tu giocherai con questo focus io giocherò con questo focus fino a metallo devasto dopodiché verrà scelta un'altra lente a quel punto sarò io potrà scegliere un altro focus e tutto il giro seguirà quel focus dopodiché ricambia la lente e via dicendo ok perfetto la lente e conflitti la lente è una cosa un po' generica però dove il focus dovrebbe essere qualcosa di relativamente più specifico per esempio vi faccio degli esempi dal manuale ok il focus potrebbe essere il naufragio della Gabriele Dora è un transatantico di lusso che sparisce misteriosamente oppure per esempio un altro focus potrebbe essere il presidente Calveston Patriarca della Repubblica della Stella Solitaria durante il vabbè questo era il focus cioè questo personaggio questo personaggio è il focus del giro quindi potrebbe quindi andremo a indagare chi è lui o definirlo e includerlo nella storia quindi chi mette il focus vuole analizzare questo elemento e fa sviluppare la storia intorno a questo elemento quindi può essere di dettaglio c'è un personaggio un evento molto di dettaglio oppure un qualche cosa di più vasto e poi lo andiamo a sviscerare durante il nostro il nostro giro ok quindi anche il nome di un personaggio basta? potenzialmente sì ok Reinhard Stammerford il cavo della casata degli Stammerford aspetta Reinhard un secondo solo FK quindi questo è il scusami il il capo della casata degli Stammerford quindi qui ci mettiamo aspettiamo aspettiamo un attimo il CAE una volta definito il focus faccio una domanda tecnica una volta definito il focus tutti gli altri giocatori giocano sulla base di quel focus creando scene creando eventi quindi è molto potente cioè ok il mio commento che faccio non è per dare un giudizio sulla scelta di carisma però diciamo pone il diciamo tutta l'attenzione su questo personaggio quindi tutto quello che si svilupperà si svilupperà intorno a questo io non potrò inserire che ne so una cosa tipo viene scoperto un elefante che ha poteri magici se non è comunque legato a questo focus no ok capisco che possa essere limitante ma anche no perché comunque addosso al personaggio può capitargli la qualunque gli nasce un fratello gli muore un fratello mangia una carota che cavolo ne so perché ovviamente questo gioco fa emergere proprio da queste tra virgolette quello che potrebbe anche sembrare una costrizione in qualche modo cioè ti permette poi di andare in alcune parti dove tu non andresti normalmente cioè quindi vai magari anche guarda adesso già la storia che abbiamo messo su dal fantasy del Master Kai di 20 minuti fa mezz'ora fa se voi vedete già il tabellone stiamo sicuramente è un fantasy però siamo da una parte che nessuno avrebbe detto a inizio partita che saremmo andati qua proprio perché è l'intreccio delle varie persone che creano diciamo delle meccaniche che poi stupiscono un po' tutti perché diciamo non è si spera venga fuori qualcosa di diciamo di non scontato almeno per quelli che lo giocano e qui qualcuno mi venerà sì adesso se viene fuori qualcosa di scontato è colpa tua non so per esempio voi adesso una cosa importante a voi per adesso lo schema che abbiamo intanto do save sul focus quello che abbiamo fatto fino adesso per voi vi intriga a me piace interessante diciamo che ci sono enormi potenzialità ma è ancora presto per dirlo siamo all'inizio del primo giro vedremo ok comunque il focus di questo giro è Rainer Stunnerford capo della casa di Stunnerford però è sbagliato il nome ecco la devo sapere vai è scritto alla fine si è deciso alla fine non mi ricordo in che senso mi sa io io ho messo le M al posto delle M e Stunnerford non l'avevo manco viste ok però si Stunnerford Ford con la R così? si grazie ci hai scritto sopra l'ho scritto sopra? si una casata di Stunnerford ah scus ah scus ah scus ah là quindi ci manca anche una L esatto scusate ma io devo sapere ah qui sono alcolista anche se sto in un momento scusate ma io ho la terza media quindi ho so scrivere che cos'è allora ma quindi la tagline di questo gioco è uccide dislessici dal 2019 esatto si perché sul carrello del Master K ogni gioco è potenzialmente letale esatto allora vedo un attimo che ho un attimo un dubbio amletico comunque tu dovresti poter dovresti decidere quindi queste due elementi ok devi creare due elementi uno che contenga l'altro ok allora qui dice che puoi scegliere di creare due elementi nel suo turno purché sia un'annità di l'uno dentro l'altro potresti comunque diciamo che dato che tu sei la lente di questo turno oltre a decidere il focus puoi agire due volte tutti gli altri agiranno per forza una ok però vi devo spiegare che cos'è una scena perché altrimenti diciamo che carisma partirebbe un po' allora la scena serve all'interno di un evento per indagare una domanda di cui diciamo tendenzialmente anche se tu già sai la risposta tu dovresti cercare di non far vedere non far percepire quale vorresti come risposta come se fossi giocando un po' a poker vorresti fare un po' di bluff e la scena può essere o giocata o dettata cioè tu puoi decidere di dire ragazzi non la giochiamo l'ha detto io quindi racconti una storia che risponde a questa domanda e si conclude in maniera unilaterale cioè lo decidi tu la racconti la spieghi visitai la scena sarebbe un singolo evento specifico sì all'interno di un evento durante l'evento l'ultima resistenza degli elfi c'è la scena del il duello tra il generale degli elfi e il beh Ronald Stunnerford perché deve esserci che il fuoco sì diciamo ok infatti la scena come funziona decidi la domanda imposti il famoso palcoscenico lo scenario quindi dai un po' tutto il background che può essere necessario per capire diciamo l'evento la scena che si va a giocare e poi puoi decidere dei personaggi e ci sono due tipi di personaggi che puoi scegliere principali e secondari e puoi richiedere che alcuni personaggi vengano giocati quindi poi a scelta noi andremo a prendere questi personaggi cercando di di scegliere poi comunque tutti quelli che tu vuoi richiedere come come vai sottolineato come richiesti puoi vietare ehm alcuni alcuni personaggi ehm per perenne motivi e e poi ognuno a suo turno può scegliere da questi personaggi ehm diciamo richiesti oppure includere un un dei personaggi addizionali e a quel punto si può diciamo giocare questa questa scena con un vero e proprio gioco gioco di ruolo ok dopodiché alla fine della scena vabbè poi ci sono delle delle conclusioni cioè la scena intanto termina quando si riempie quando si trova la risposta alla domanda per esempio che ne so come è morto Reinald Stammerford durante la battaglia punto di domanda e la quindi il il palcoscenico che definisci è la scena che si evolve che si svolge dovrebbe deve portare e terminerà solo quando daremo una risposta a a questa domanda cioè quando sapremo com'è morto ok quindi tu puoi scegliere un periodo ed un evento ovviamente in base a come poni la domanda cambia poi il focus della scena perché se te la domanda è come è morto la scena comunque dovrà raccontare la morte se te invece dici Reinald Stammerford è sopravvissuto alla battaglia potrebbe morire potrebbe non morire esatto ok a quel punto te potresti dire questa è una scena narrata in cui dici durante la battaglia io dichiaro che Reinald Stammerford è morto impalato punto o potrebbe essere la scena narrata in cui dici ok allora in questa scena si svolgerà nella l'ultima stanza del castello degli elfi e dovranno esserci come personaggi Reinald Stammerford il re degli elfi suo cugino e uno che passava di lì e nessuno può giocare le guardie ok a quel punto tutti gli altri giocatori decidono a turno in base all'ordine allora io voglio fare questo io voglio fare questo io voglio fare quell'altro ok allora io creerai un evento sotto la guerra del possesso dei gesimenti di fuminite e l'evento lo chiamerei il tradimento della casata scusa aspetta nel periodo scusa qual'era? guerra del possesso guerra del possesso ok faccio un evento ok il tradimento della casata Stammerford e sarà di? ombra ok e subito sotto creo una scena creo ok la scena è oddio la domanda deve essere relativa a quello che succede o può essere anche distaccata da essa ma ricongiungerci sia alla fine deve essere una scena che è avvenuta durante quell'evento quello sì la domanda che vorrei porre sarebbe che cos'è il secondo sole in cielo ok però mettendola così è implicito che la risposta a questa domanda è in qualche modo collegata al fatto che la casata Stammerford l'ha tradito sì esatto potrebbe essere la motivazione potrebbe essere la conclusione però ok perfetto se dice che va bene la domanda è quella allora ok allora che cos'è il secondo sole della domanda ok la scena vai la scena vede fondamentalmente i due figli di Reinhardt Ronald e Albert in combutta con gli elfi del metallo che tradiscono il padre e fondamentalmente il padre viene scagliato nell'esosfera tu la stai scusa la stai definendo dettata cioè la stai raccontando o la vuoi giocare direi raccontando in questo caso ok ok non avevo capito perché la stavo stavo cercando di mettere i personaggi come se qualcuno li volesse in questa scena Roland e Albert tradiscono il padre e si schierano dalla parte degli elfi del metallo esatto è una scena raccontata quindi scusate che sono un po' lento tradiscono il padre ok e si alleano con gli elfi del metallo si erano in combutta con gli elfi del metallo in pratica ok attraverso l'uso della magia Reinhard fondamentalmente viene sparato in cielo e diventa il secondo sole che veglierà sulla terra estremo questo è proprio andarsene col botto un sinonimo di sparato lanciato scagliato 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 come come una catapulta non so perché però l'aspettavo mi freccicavano le mani mi piace il corpo astrale di Reinhard o una cosa del genere ci piace ci piace ci piace oh e questa qua è luce o ombra direi ombra l'ho pensata come la scena che porta al finale oscuro poi bene tutti quanti me la smonterete già lo so però ok ok allora faccio degli incisi possono essere successivamente create altre scene che possono essere anteriori o posteriori a questa sempre sullo stesso evento ok quindi se poi qualcuno vuole perché gli viene in mente anche se questa scena l'hai creata tu e qualcuno vuole inserire qualche cosa può farlo e può anche inserire una scena subito dopo prima di questa con altre domande arricchire o stravolgere la storia lo dico semplicemente per ricordare un po' diciamo quali sono le possibilità ok e tocca a me che ho pensato ovviamente a niente e io metterei facciamo 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 ma facciamo un'altra cosa devastante il ritorno di Ryan Stalman faita detto il giorno del grande kaboom l'esplosione non so conventissimo non so conventissimo però stai mancando il focus ah è vero vedi c'è ragione sempre il master kaboom allora torniamo su Reinhard un'altra cosa Sì, scusate, non parlo quando schifo. Ho pensato che questo nuovo sole nel cielo possa dare qualche problema all'uso della fluminite e quindi renderla instabile da quel momento in poi. Però le radiazioni del secondo te rendono, hai ragione anche tu, le radiazioni instabile la fluminite. Grammar nazi for the win. Chi di commento colpisce, di commento ferisce. E vado con un save, sì. Diciamo che è una cosa, un tono dark. Beh, se prima ci lamentavamo che erano tutte luce. Ah, scusami un attimo che mi sono dimenticato una cosa della tua scena. Ah, o no? Vabbè, intanto controllo una cosa, intanto andiamo avanti, dai così. Il prossimo è? Il prossimo è Muzius. Sono io. Ok. Allora, fatemi pensare qualcosa che aveva a che fare con Ryder. Allora, fatemi pensare qualcosa che aveva a che fare con la sua scena. Ok. Allora, tra l'altro nella scena hai scritto si allenano, invece di si alleano. E che per farlo c'era bisogno di allenamento. Esatto. Si allenano a Mario Kart. Potrei quasi inserire una scena tra l'evento e la scena che sono lì. Quindi il tradimento della casata e che cos'è il secondo sole. Quindi un altro, un altro, un'altra scena. Un'altra scena, sì, che nella mia testa in ordine cronologico arriva prima, ovvero cosa stanno tramando Albert e Ronald. Ok. E la scena in questione. Però prima che vada avanti ti devo fare una domanda. Come funziona con la storia del giocano i giocatori, la scena? Allora, torniamo un attimo indietro. Cerco di darvi tutti gli elementi, eh. Allora, tu definisci la domanda, imposti il palcoscenico e decidi dei personaggi. Questi personaggi, diciamo, definisci uno o due che qualcuno dovrà interpretare. Quindi li richiedi che vengono interpretati. Quindi tu potresti, per esempio, mettere Albert o Ronald, oppure mettere Albert e un altro personaggio che tu, diciamo, che ti inventi. Ok. E potresti, per esempio, dire che è vietato Ronald. Cioè, in questa scena, sembra una follia, eh. Però, diciamo, tu potresti dire Ronald oppure è vietato Reinhard. Cioè, in questa scena non deve comparire Reinhard. E i giocatori scelgono tra questo pool di personaggi o ne possono, ne possono... Inventare uno che non sia vietato. Esatto. E quindi tu puoi vietare... Vabbè, ne scelgono uno. Devono rivelare i pensieri, però questa cosa non me la ricordo, quindi la leggiamo un attimo. Quindi ogni giocatore... No. All'inizio della scena, ogni giocatore, prima di iniziare a interpretare il personaggio, dichiara fondamentalmente qual è la motivazione del suo personaggio in quella scena. Ok. E quello, tu dici che voglio due che giocato... Un giocatore deve giocare Albert, un giocatore deve giocare Ronald. Ok. Si sa che stanno andando per tradire. All'inizio della scena, prima di interpretare, i giocatori di Albert e Ronald dicono cosa stanno pensando i loro personaggi. Ok. Magari Albert dice, io sono sicuro che il nostro padre è uno stronzo, dobbiamo ammazzarlo. e Ronald dice, sì però, sti elfi del metallo non sembrano brava gente. Ok. Ok. Poi ci sono due... Vai, scusa, vai. No, vabbè, una puntualizzazione in realtà. Quindi così facendo si mette, diciamo, in pausa la turnazione della lente e si gioca a interpretare, a recitare. Sì, certo, certo. Ok, 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 ok. Allora, poi ci sono due opzioni. Una è lo stare sullo sfondo, cioè... Si è verificato un problema, la riprova tra qualche secondo... Grazie, ti voglio bene. Anche noi te ne vogliamo. Perfetto. Potete stare sullo sfondo, cioè che vuol dire? Se per esempio in questa scena pensate che i due personaggi fondamentali siano Albert e Ronald e magari un terzo e non c'è bisogno di inserire altri personaggi, diciamo, principali, voi potete scegliere un personaggio secondario, che ne so, una scena di un pranzo, interpretate un cameriere, per evitare, diciamo, di sovraffollare la scena. Oppure potete giocare, sempre come opzionale, il tempo, che è, diciamo, un modo di intervenire nella scena per fare in modo che scorra più velocemente. Per esempio, in una fuga da una prigione potreste interpretare il tempo come le guardie. Quindi dire che mentre i personaggi fondamentali fanno delle azioni, che le guardie si stanno avvicinando, che li hanno avvistati, che li stanno... Ok, cioè, giocate... Praticamente sarebbe il master. Praticamente. Il master tradizionale. Esatto. Quello che deve mettere fretta agli altri per chiudere la scena. Capito. Che serve per spingere la situazione. E alla fine della... Cioè, la fine della scena sempre scatta quando si risponde, quando tutti sono d'accordo che si è trovata la risposta alla domanda. Ok. Quindi, a questo punto tu devi decidere questo uno o due personaggi che vuoi includere. O puoi deciderli. Eh, ma infatti ti dirò io... Quali per te sono i personaggi indispensabili per questa scena e quali personaggi non devono assolutamente entrare in scena? Ok. Ma ti dirò che potrei quasi lasciar perdere per adesso. Cioè, la scena mi limito a descriverla e a dare una risposta dettata perché lo preferisco, diciamo per semplicità. Adesso è più chiaro come funziona il discorso del gioco interpretativo. Però preferisco non affrontarlo adesso. Adesso mi limito a descrivere la scena così perché mi va e poi passo la lente. Quindi vuoi, diciamo, vuoi fare una scena raccontata? Sì, sì, sì. Ok, vai. Mi limito a raccontando che cosa stanno tramando. Posso scrivere... Reinhard scopre nella camera di uno dei suoi figli un messaggio elfico e decide di affrontarli. Quindi la risposta potenziale qui potrebbe essere i figli vengono convocati da Reinhard, ma insieme a loro c'è una squadra di elfi assassini perché era già stato pianificato tutto. Quindi... I figli vengono convocati da Reinhard. Perlomeno questa è la risposta che darei io. Andosi con... Sì, un gruppo di elfi. Poi vabbè, un gruppo o uno solo... Io adesso lascerei gruppo, però potrebbe anche essere uno solo. Ma vabbè, lasciamo per adesso gruppo. Chiaramente questa è una roba dark per forza perché la trama sta già prendendo una piega abbastanza evidente. Ma ancora non abbiamo introdotto i puffi, eh? Attenzione. Esisteva un'ultima alleanza tra i mini poni e i puffi e noi siamo qui per onorare con l'alleanza. Però sì, diciamo, io mi limito a questo. Solo una cosa. Per esempio, una cosa formale. La domanda a cui stai rispondendo non è cosa stanno tramando Albert e Ronad, ma come è iniziato il... o perché Albert e Ronad hanno anticipato il loro tradimento o qualcosa del genere? Giusto, giusto. Ok. Allora, per renderla più coerente alla domanda, posso chiedermi cosa stanno tramando? Stanno tramando di assassinare il padre? Beh, non descriverei con cosa. Mi limiterai semplicemente a dire... No, perché l'altro cambia la domanda. Ah, ok. Cioè, o lo descrivi nella scena, cioè nella scena, poi si evince la risposta, però deve essere... Cioè, fino adesso Reinhard scopre solamente questo messaggio elfico, no? E decide di affrontarli entrambi. Non sappiamo né che cosa ci sia nel messaggio, né qual è, diciamo, il risultato di questo... di questo confronto con i con i figli. Sì. E la risposta, diciamo, può anche... L'importante è che risponderà alla domanda, però, diciamo, non si capisce bene... Vabbè, ma guarda, se tanto lo scopero a quel, cioè partendo dalla fine, i figli hanno già deciso e messo in piano l'atto, una domanda forse stupida che mi viene in mente è cosa sta succedendo a Reinhard Stammerford? o che fine farà a Stammerford, che fine farà, comunque, vabbè, cosa sta succedendo a Reinhard? Ehm... Non so, c'è qualcosa che non mi convince in questa... Ma per voi va bene? La domanda continua a essere perché i figli di Reinhard hanno anticipato il tradimento? Sì. Ma non è che il problema è il terzo periodo, perché parla delle guerre del possesso dei giacimenti di Fulminite e subito dopo c'è l'evento del tradimento. Il tradimento sembrerebbe quasi qualcosa che viene in un periodo successivo alle guerre, tipo alla conclusione della guerra, non durante. Potrebbe essere l'evento finale della guerra, che tra l'altro avrebbe senso perché dato che la Fulminite poi diventa instabile, nessuno lo vuole più. Quindi inizio, metà e fine della guerra è tutto sotto la stessa colonna. Ah sì, perché il periodo storico è quello delle guerre, quindi sotto le guerre c'è l'inizio, lo svolgimento e la fine di quel periodo. Sì, che non sono state ancora definite, diciamo, però fanno da cappello. Però poi diciamo che questi sappiamo essere eventi che sono successi durante l'era delle guerre del possesso. Guarda, la salvo un attimo, no? Guarda, questa vediamo come tirarla su intanto. Con questo. Quindi, ricapitoliamo. Siamo nel periodo delle guerre del possesso dei giacimenti di Fulminite, il tradimento della casata Stam e Fulminite, successivamente si sa, diciamo, di questo... diciamo, dell'eliminazione di Reinhard. Ok. E questo ce la fa editare in questa maniera oscena. Vabbè. Quindi. Allora mi viene in mente una domanda, sempre riferimento alle guerre, potrebbe essere cosa porta alla fine delle guerre? Una risposta per me potrebbe essere il tradimento dei figli. E poi nella scena sotto viene descritto come questi figli effettivamente scagliano suo babbo nel cielo. Sì, ma a quel punto sarebbe un evento letteralmente superfluo, perché non aggiungeresti nulla a quello che già sappiamo. Ok. Diciamo che aggiungendo una scena del genere, inserisce una serie di elementi, tipo che se l'hanno tradito perché lui li ha convocati dopo averli scoperti, la cosa non detta in questa scena è che non doveva finire in quel modo. Loro stavano tramando o di ammazzarlo dopo o di ammazzarlo in un altro modo, ma dato che lui li ha scoperti, hanno dovuto anticipare il piano, il che ha portato a farlo esplodere nel cielo. Ok. Ok. Faccio un attimo a mente locale, allora... Lo eliminiamo? Per adesso? No, cambia solamente la domanda in perché è stato anticipato il tradimento. Sì. Anche perché la scende tutto senso. Esatto, perché se Raina scopre nella camera, i figli vengono convocati, ok? Perfetto. Tocca a me? Yes. Io farò un passo di lato e sotto il periodo del dominio dell'uso della magia, ma prima della fondazione del Consiglio degli Arcanisti, Odin Stammel... Fonda un villaggio in una valle... Che c'entra Brocco Reinhard? Odin Stammel, l'antenato di Raina... E' un ford nel cognome... Eh no, perché lui è Odin Stammel che ha fondato il villaggio nella valle... Ok. Questo è il motivo per cui la famiglia poi diventeranno gli Stammel Ford... E' un ingegnaggio... Fonda un villaggio e una valle... A sua insaputa... Il villaggio è sopra una vena di... Una ricca vena di fulminite... Una ricca vena di fulminite che sta venendo sfruttata dal sottosuolo dagli Elfi del metallo... Luce o ombra? E' una cosa di luce... Perché sono tutti contenti... Abbiamo fondato un villaggio... Abbiamo una nuova vita... Che bello stare qua... E poi c'è proprio la telecamera che si abbassa... E sotto si vedono le miniere con qualcuno che guarda in alto domandandosi... Che cazzo è stato? Poi diciamo che sappiamo già che questa cosa avrà dei risvolti negativi... Ma in questa era è una cosa di luce... Ma io l'avrei fatta in due... Io ho solo una scena... Quindi in questa scena viene fondato il villaggio... Poi qualcuno... Sappiamo che finirà con i figli che si... Qualche generazione dopo i figli si alleneranno con gli Elfi... E sappiamo che finirà che a quanto pare sta cosa gli ha portato bene... Ma i dettagli sono ancora da definire... Sì diciamo che in questo evento qui... Gli Elfi potrebbero essere pure contenti... Ah sì sì... Ok... Metallo devastaci... Io aggiungerei la guerra del posto dei giacimenti... L'evento... Aspetta scusa aspetta un secondo... Io ti sento... Ombulo metalmente... Ora mi senti meglio probabilmente... Aspetta però ti alzo perché... C'ho proprio difficoltà a capire... E no per il volume però... Devo minimizzare le brutte figure... Vai... Voi altri mi sentite? Sì sì... Sì... Ok... Gli aggiungerei sotto le guerre del possesso... Una battaglia... Direi... Una battaglia di Ixor... Comunque... Vabbè... Io lo sto facendo per tutti però... In teoria... Potreste fare anche voi... Sì potremmo... Ma non lo faremo... Allora... Quindi il primo periodo... Quello d'inizio... No... Il periodo delle... Le guerre del possesso... Ah ok ok... Aggiungo... Battaglia di Ixor... Ma è un evento? Sotto... Sì un evento... Prima di questo o dopo? Prima del tradimento della casata... Ok... Direi che Reinhard Stammerford... Guida diciamo... L'esercito degli umani... E basta... Reinhard guida... L'esercito degli umani... Sì... Gli esseri umani... Alla battaglia di Ixor... Ascolto... Sì... Così? Sì... Mettiamoci un po' di ciccia... Sulle guerre... Sì... Ok... E si conclude... Il primo giro... Di creazione... Con questo secondo video... Nel prossimo video... Vedremo il secondo giro di creazione... Il primo 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 giro di creazione...